Siamo qui con Marco Bigliazzi. Marco, che soddisfazione? È una soddisfazione grandissima perché siamo partiti da lontano, d'agosto ci abbiamo creduto giornata dopo giornata e volevamo questa Coppa e ce la siamo meritata. È stata una partita difficile ma alla fine ce la siamo meritata. La vittoria ha anche più valore grazie all'avversario. Oggi l'avversario è stato un avversario tosto. Sì, sicuramente, ma il mister ci aveva parlato singolarmente di ogni giocatore, sapevamo che era una squadra importante con due giocatori che hanno fatto anche categorie importanti e quindi l'abbiamo preparata bene e l'abbiamo affrontata come si deve affrontare una finale. Io ho visto che tante volte eri ostretto a abbassarti tra la linea dei difensori per prendere palla perché eri seguito a tutto campo. Sì, sì, il mister ha cambiato qualcosa dopo il primo tempo perché in quella posizione spesso avevano raddoppio, erano bravi a venire al raddoppio sulla tre quarti, quindi abbiamo cambiato qualcosa. Mi sono abbassato insieme a Ale e Andrea in mezzo al campo e comunque siamo andati bene. Quindi ora la Coppa l'hai vinta, la prima ci siete, basta. Ora no, basta no. Ora c'è il campionato che è un altro obiettivo che va portato in fondo. La vittoria è quello che vogliamo e quindi ora passa questa settimana, c'è la Pasqua e poi pensiamo al campionato. Io ti ringrazio, ti faccio i complimenti e un imboccaluto. Grazie, grazie mille, grazie.